Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per lavori chiuso in entrambe le direzioni il tratto tra Rioveggio e Aglio, in direzione Bologna per traffico intenso code a tratti tra Calenzano e Barberino, in direzione Roma rallentamenti per lavori tra Calenzano e Firenze Nord, per incidente tra Valdarno e Arezzo, in entrambe le direzioni i rallentamenti per lavori tra Chiusi e Fabbro. Sulla Fibili per lavori tra Montelupo ed Empoli Est, un chilometro di coda tra Ginestra ed Empoli Est in direzione Mare e tra Empoli e Montelupo in direzione Firenze. Chiusa l'entrata di Empoli Est in direzione Firenze, per traffico intenso code in uscita all'Astra Assigna in direzione Mare. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!